Buonasera a tutti, ben trovati a Luanda, è stata anche oggi una giornata bella impegnativa, abbiamo toccato per la prima volta il Congo Brazzaville, abbiamo contato il Presidente Sassu, credo che sia stato un appuntamento importante anche per la firma di due accordi, un accordo firmato come capogruppo dalla Trevi, un'azienda molto importante a livello internazionale, un'azienda di Cesena ma che ha una larga parte del proprio fatturato all'estero e che ha con sé una dozzina di aziende italiane per un investimento infrastrutturale interessante nato da un accordo con Confindustria nel 2012 e un accordo di Eni, un accordo di Eni che in Congo Brazzaville è particolarmente forte, importante, abbiamo un discusso di questioni di geopolitica internazionale, mi riferisco segnatamente alla vicenda della Repubblica Centroafricana di cui si parla poco ma che è un problema grande, coinvolge anche 30 uomini delle nostre forze armate, oltre che naturalmente migliaia e migliaia di civili, decine di migliaia di civili, abbiamo avuto un modo di affrontare con il Presidente e con i suoi uomini il tema dell'immigrazione, l'abbiamo detto ieri, lo ripeto oggi, noi possiamo fare degli interventi più forti, li faremo, c'è bisogno di dire all'Europa che è inaccettabile che Mare Nostrum abbia un bilancio più grande di Frontex, Mare Nostrum è ciò che fa l'Italia, Frontex è ciò che fa o dovrebbe fare l'Europa, noi spendiamo più come italiani per gestire l'immigrazione di quanto spendono tutti gli altri paesi che compongono l'Europa e questo da un lato va a dimostrazione che noi siamo persone civili e serie e dall'altro che l'Europa deve cambiare la propria politica dell'immigrazione, questo come risposta immediata, però tutti noi sappiamo che senza un investimento in Africa non si va da nessuna parte, noi riusciremo a salvare e a chiudere definitivamente la questione dell'immigrazione soltanto quando porteremo uno sviluppo vero in questo continente ed è anche questo stato oggetto di grandi discussioni con il Presidente Congolese, oggi siamo arrivati in Angola dove da domani torneremo in Italia, domani sera saremo di nuovo a lavorare al Palazzo Chigi, per cui abbiamo impiegato un sabato, una domenica, ci siamo giocati il weekend e il lunedì e poi saremo immediatamente di nuovo a lavoro da martedì mattina sui tanti dossier italiani, però con il Vice Ministro Calenda, con Riccia Mattioli, Vice Presidente Nazionale di Confindustria, con delega all'internazionalizzazione, questa tappa in Angola che è pure molto importante per tanti motivi, anche in questo caso motivi storici, motivi culturali, motivi politici, è una tappa che ci dà il senso di quello che noi dovremmo fare nel programma italiano dei mille giorni che partireà il primo settembre e terminare il 28 maggio del 2017 sul pacchetto del Made in Italy, che è un pacchetto fondamentale, importantissimo, si tratta di un investimento straordinario per aumentare le esportazioni del nostro paese, le aziende che asportano, che noi abbiamo individuato in una lista di aziende da aiutare a fare il passo dell'organizzazione per andare all'estero sono 22.000, c'è una lista di 70.000 aziende, di queste l'ufficio di Calenda assieme a Confindustria ha individuato una percentuale di queste che può fare il salto di qualità, un'azienda che va a esportare è un'azienda che crea ricchezza, è un'azienda che porta alto il marchio del Made in Italy nel mondo e che quindi crea la possibilità di alimentare lavoro tanto nei paesi in cui investe quanto in Italia. ci siamo già diti tante volte che ci sono alcune aziende, che ricordate l'ultimo viaggio che abbiamo fatto in Vietnam che grazie agli investimenti che hanno fatto all'estero hanno potuto tenere aperto in Italia il caso della piaggio è emblematico, il contedere è andato avanti perché si è continuato a investire in India e in Vietnam. Dunque è un paese che fa le cose sul serio, l'Italia è il paese che esporta di più noi stiamo esportando, abbiamo dei tassi di crescita, più correttamente diciamo non è che esporta di più ha un tasso di crescita dell'export negli ultimi tre anni, correggimi Carlo quando dico cose inesatte ha un tasso di crescita che è il più alto dell'Unione Europea, tanto per fare un riferimento come export noi abbiamo visto crescere il nostro export del 4,9% corretto? sì, negli ultimi tre anni la Germania è il 4,8%, la Francia sta sotto il 3%, questo vuol dire che a dispetto di ogni racconto della crisi l'Italia che, c'è tanta domanda di Italia nel mondo e voi considerate questo numero, ecco il senso del viaggio dal punto di vista economico, poi ci sono molti altri elementi in questo viaggio che se volete affronteremo nel corso della chiacchierata, però considerate questo numero, ci sono, nei prossimi dieci anni ci saranno 800 milioni di nuovi consumatori nel mondo, che sono potenziali viaggiatori, il turismo in Italia vale il 6% del PIL nel resto del mondo la media è il 10, se noi ricoprassimo 4 punti di PIL sarebbero oltre 60 miliardi di euro sono potenziali acquirenti di beni che per la classe media sono sempre più legati alla qualità è il design, è l'arrendamento, è la cucina, è il cibo, l'agroalimentare, quanto è importante in questa terra come l'angola, è il grande investimento che possiamo fare sullo stile di vita, questo tipo di attività apre uno scenario interessantissimo e allora da qui noi rilanciamo il programma del Made in Italy, il Made in che Carlo Calenda ha annunciato e che sarà parte integrante della scommessa dei mille giorni dal 1 settembre 2014 al 28 maggio 2017, è un lavoro che punta decisamente a raccontare un'altra Italia, l'Italia che non soltanto ce la fa ma che è forte anche all'estero, poi naturalmente ci sono i polemici di professione, quelli che un giorno mancano gli investimenti stranieri in Italia, il giorno dopo quando arriva un investimento straniero a si perde l'italianità, un giorno dice che bisognerebbe esportare di più, un giorno dopo quando qualcuno esporta dice vedi sta delocalizzando, ci sono i gufi di professione, ma io guardo la realtà delle cose e do un obiettivo a me, al governo, al paese, noi saremo in condizione di aumentare un punto di pil da qui alla fine dei mille giorni proprio lavorando sull'export, che vuol dire un grande lavoro, un grande investimento con una serie di incentivi di lavoro di squadra, di gioco comune che abbiamo visto funzionare anche nei paesi che stanno uscendo dalla soglia di povertà e che in un paese invece come l'Angola, che è già un paese che ha grandi chance grandi possibilità, sarà oggetto delle conversazioni, degli incontri già da questa sera in ambascià c'è qui il nostro ambasciatore che ringrazio e poi domani mattina con gli imprenditori, il presidente Dossanto sul pranzo ufficiale e con il fondo soprano. Quindi la sintesi finale è, noi siamo qui per parlare di cooperazione di sviluppo, di valore, di immigrazione, per dire che l'Africa ha un futuro se aiutiamo l'Africa a svilupparsi e quindi se non la lasciamo sola per poi piangere in modo demagogico quando arrivano gli immigrati se vuoi costruire una soluzione devi costruirla in partenza a monte e naturalmente, ve lo ricordo perché tanto questa non ha grande attenzione della pubblica opinione, diciamo così, anche oggi in Congo domani in Angola, ieri in Mozambico il ruolo strategico dell'energia in una direttrice che non sia la consueta direttrice tradizionale soltanto est-ovest, noi lì abbiamo accordi, firmati, siglati che vanno bene, vanno avanti, non ci tiriamo certo indietro noi, ma diversificare e immaginare una direttrice per l'energia sud-nord. Questo è il grande lavoro che sta compiendo Eni in queste settimane in questi mesi, non finisce qui, è un lavoro che sotto la guida di Claudio Descalzi, Eni sta facendo e che può essere una grande risposta politica e geopolitica e in più naturalmente fa un po' da punto di riferimento e di una sorta di centro avanti che fa salire la squadra, perché laddove Eni è presente fortemente nei paesi, c'è spazio anche per, è più facile per altri imprenditori poter investire con maggiore determinazione. Stiamo parlando di questioni che ho finito riguardano posti di lavoro, quando dice Renzi non parla di crisi economica, il made in sono posti di lavoro, sono 22.000 piccole e medie aziende che vengono aiutate a investire, è un punto di vil che cresce da qui al 2017, è un investimento strategico sulla promozione all'estero anziché continuare con tanti strumenti diversificati ma con un player che ha la regia del Vice Ministro Calenda e che ha intorno a sé tante collaborazioni. Abbiamo discusso di migrazione, dicendo che non si risolve facendo gli sms e i twitter della domenica perché almeno si prende due voti in più ma si risolve facendo un grande investimento ad origine, stiamo lavorando perché i nostri figli non abbiano problemi energetici, perché di questo si sta discutendo, con le nuove scoperte noi mettiamo in sicurezza il nostro paese per i prossimi decenni, stiamo parlando di questo, stiamo costruendo il futuro, mi rendo conto che non è facile farlo passare dal concetto quando siamo abbastanza spiacciati sul presente, però se ci sono domande su questo vi rispondo perché se mi fate una domanda sulle riforme costituzionali dirlo vi ricordo. Beh, una parte del tuo progetto, è giusto, domani si mette a votare, le riforme, le riforme Cioè mi vedo sull'Africa e mi vedo interessatissimo. No, beh. Domani quanti pezzi, tanto tu sei dell'Ansa, quindi quante pagine ha decisato domani sull'Africa? No, vabbè, quindi se vogliamo parlare con il tema delle riforme... Si inizia a votare se pensate ad un contingentamento dei tempi o un modo per accelerare l'Itero oppure si lascia alla discussione parlamentare. Le riforme costituzionali domani entrano nella settimana decisiva, credo che ci saranno gli ultimi interventi, la replica dei relatori del governo e poi finalmente si vota. Per me è molto chiaro il messaggio, cioè io non trovo nessuna contraddizione, a dire delle battute, tra il lavoro faticoso ma strategico che stiamo facendo in queste ore in Africa sull'energia, sui posti di lavoro, sul made in e la necessità di semplificare le regole del gioco in Italia, avere un titolo quinto, cioè un pacchetto di regole sulle regioni più semplici di quello che abbiamo adesso, un procedimento legislativo più snello, meno politici. Quindi le riforme costituzionali per me sono l'inizio di un percorso di cambiamento profondo. del paese è anche il simbolo per alcuni aspetti, perché se la politica dimostra di essere capace di cambiare se stessa, allora poi è credibile. È un po' fare le riforme costituzionali non crea posti di lavoro di per sé, ma se posso utilizzare un'espressione è prendere il telefonino. No, le riforme costituzionali sono il PIN, se tu non digiti il PIN e sblocchi la tastiera non c'è verso di far funzionare niente. Le riforme costituzionali e elettorali sono questa cosa qui, sono lo sblocco del paese. Se non digiti il PIN il telefonino non si accende e rimane bloccato. C'è chi dice che si possa prendere del tempo, continuare a prendere del tempo, prendere del tempo. Io naturalmente rispetto il regolamento del Senato e il regolamento del Senato parla chiaro. Credo che ci siano le condizioni per poter intervenire rispettando il regolamento e consentire un dibattito serio. Poi ciascuno potrà valutare chi ha voglia di parlare sul serio delle riforme e chi invece vuole fare soltanto istruzionismo. Si dirà ma noi non siamo d'accordo con le riforme. Ma se la maggioranza con il prescritto quorum costituzionale è d'accordo, l'ostruzionismo è uno strumento che vuole bloccare il volere dei cittadini. Io però non sono preoccupato perché si è discusso molto, si sono fatte le modifiche che andavano fatte. C'è un accordo che è più ampio della maggioranza. Non credo che questo Paese sia nelle mani di una minoranza che vuole fare istruzionismo. E quindi se ci vorrà un'ora in più, un giorno in più, una settimana in più, prenderemo un'ora in più, un giorno in più, una settimana in più. Ma quello che deve essere certo è che noi andiamo fino in fondo. Perché le riforme costituzionali non sono che l'inizio. Io vivo costantemente nella preoccupazione e nella speranza di dare un futuro ai figli di questo Paese. Tutto il resto interessa soltanto i partecipanti al teatrino della politica. Noi siamo qui per creare posti di lavoro, per creare ricchezza, per dare occasione di sviluppo. E la riforma costituzionale e istituzionale del Paese è qualcosa sul quale si discute da 30 anni, che ha visto una discussione molto ampia e che noi con tranquillità e il sorriso sulle labbra, ma una determinazione ferrea porteremo a casa. Piaccia o non piaccia a quelli che vogliono ostruire. Chi fa ostruzionismo mette un sasso sui binari. Noi con pazienza togliamo il sasso e facciamo ripartire il treno. Perché il treno è l'Italia e noi non possiamo tenere la ferma. Bene, vi vedo felici sugli argomenti perché avete le vostre... avete da fare ticci. Ho capito. Arrivederci, ci vediamo in Italia. Sia ciò che accade in Medio Oriente che ciò che sta accadendo in Ucraina. Abbiamo avuto diversi contatti internazionali in queste ore e adesso io mi ritiro nelle stanze per fare alcune telefonate, tra cui la prima è il presidente Frasoland che ha un collegamento telefonico con Putin. Quindi stiamo in contatto costante per cercare di far sì che il Consiglio degli Affari Europei, cioè il Consiglio dei Ministri degli Esteri che si viene martedì a Bruxelles, credo, possa dare delle risposte nette e chiare anche sulle vicende di cui giustamente si stanno occupando tutti gli uomini di buona volontà. Grazie. Grazie.